Enesimo successo di pubblico e di partecipanti alla settima edizione di Corri con Papa Natale ideata dall'associazione Green Sport Promotion preseduta da Giuseppe Valetti. Ieri giorno della festa dell'Immacolata Concezione, tantissimi ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione che si è svolta come ogni anno sul corso principale. Un appuntamento che richiama sempre l'attenzione dai più piccoli ai più grandi. È una grande festa non soltanto per i bambini ma anche per i genitori che hanno la possibilità di condividere un momento di sport e un momento di gioia. Il Natale sicuramente rende a tutti più buoni e questa è l'occasione proprio per ripopolare il centro storico con tanti colori rossi. Tanto divertimento, tante sorprese, tanti regali e soprattutto tanta voglia di essere qui presenti e di vivere l'inizio di un Natale sereno e di pace per tutti. Giunti alla settima edizione c'è una carvietà, una determinazione, una volontà e una pazienza anche nel portare avanti queste iniziative che sicuramente mi glorificano anche di quello che sicuramente gli altri potrebbero anche fare un po' di più. Si va avanti, si va avanti con tanti piccoli sacrifici ma comunque la gioia dei bambini, il sorriso di tutti quanti mi permette di non mollare mai. Il professore Veletti ha avuto e ha un progetto a lunga, lungo Mirande dove questo progetto noi ogni anno per l'Immacolata lo portiamo avanti perché crediamo nello sport, perché crediamo nella salute dei bambini e nella salute nostra. Ora diciamo che ogni anno, anno per anno, anno per anno, noi vogliamo e continueremo a fare questa corsa con papà Natale e non con babbo Natale, con papà Natale, coinvolgendo i papà, le mamme, tutti con i nostri bambini a stargli vicino e a darci la possibilità di passare una giornata serena, diversa dalla frenesia, diversa dai problemi che ci attanagliano perché non ci scordiamo che abbiamo un problema che è il problema del lavoro, però oggi i bambini li facciamo felici insieme ai genitori.